Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video, anzitutto volevo approfittare per ringraziarvi di tutti gli apprezzamenti che avete fatto ogni ultimo video che è quello sul paranormale e in particolare volevo ringraziare le persone che sia in pubblico sia in privato mi hanno mandato le loro storie e quindi vi annuncio che ci sarà nel 2018 oramai un video con le vostre storie paranormali e probabilmente anche quelle mie, ma, ma, veniamo al tema del video, minimo al tema del video perché io ho amici che mi viziano, amici che mi viziano e questo è un nuovo video spacchettamento, anche se sicuramente in qualche modo l'avrete letto capito, non so ancora come si colerò, perché ambra mi ha fatto un altro regalo, purtroppo le confezioni delle poste sono una cosa inaccessibile, però un effetto sorpresa c'è perché io non non so ancora cosa c'è dentro e lei mi ha chiesto di vedere la reazione, carambra, stai, per vedere la mia reazione allora questo cos'è? oh mio dio minch'è stata la busta minch'è stata la busta la busta è super stracciata, ce la farò da qui vedremo, vabbè non vi posso leggere cosa mi ha scritto sulla busta perché fa ridere ma è un po' sconcio io qui me la censura ecco bravo i carti allora no vabbè allora vediamo se riesco a strappare la busta ma già già ho intravisto non è che lo volevo far vedere anche a voi come si dice ragazzi si ce l'ho fatta ce l'ho fatta la busta ce l'ho fatta c'è bianco e nero i miei colori progeriti accostati è la maglietta dei doni della morte raga ora io non lo so cosa farò vedere con le mie mie spazzicose non fate cazzo però io tra l'altro sono super contento che non ci sia l'unico simbolismo una scritta neutra come piacciono a me senza messaggi più o meno cari purtroppo quindi ti annuncio ufficialmente caramba hai indicato qualcosa che non avevo soluzione perché le mie magliette te le ho mandate a modi di esempio grazie grazie spero che l'emozione si sia vista il più possibile prima o poi prima o poi lo farò anch'io non ti dirò quando ti dirò semplicemente che un giorno dovrei aspettarti la roba a casa ma non lo so quando oddio roba è ambiguo non sto dicendo così strana sto dicendo cose legalissime e nulla sono veramente contento per questa cosa vi vado dopo una giornatina quella di ieri che lasciamo perdere spero che questo breve video vi sia piaciuto anche se non siete tutti quanti poter heads io come al solito vi rilascio nuovamente il canale di amm e la somma posti fosse passato nel precedente video spacchetto vi lascerò anche quello per attimo e noi ci vediamo il prossimo video che non so ancora quando sarà quale sarà perché devo decidere se entra subito in pausa natalizio oppure no ma forse un altro video ci scappa vediamo 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 un tanto è andato io a vedere il video normale se avete già visto il video spacchettamento e noi ci vediamo presto comunque presto ciao